Sono tre punti vitali per il Verbania che batte 1-0 l'Inveruno in una partita dove peraltro c'è stato un grande pubblico. Il gol decisivo arriva all'ottavo minuto del secondo tempo, gol di Spadafora dopo un batti e ribatti, la palla va verso la linea, una difensora della formazione ospite scivola, la palla entra in rete, partita da poche occasioni, una però è entrata e per il Verbania davvero sono punti che possono valere tanto.